secondo me si vede che navigano in brutte acque ma adesso dopo l'intervento di Peltrone e Lingotto vediamo se il PD ha trovato finalmente una linea unitaria gli sgommati intervista in esclusiva il Partito Democratico sono d'accordo? io no! andiamo alla Casini! al centro c'è un buco carissimi come sempre questa nuova fase va a fare a fare una proposta alla sinistra unitaria ma quale sinistra? c'è ragione la lema ma Bertroni ancora camp a Bertroni a ritardo c'è Berlinguer io voglio togliatti io andrei atti alleavose con Berlusconi ma sei un coglione e che abbiamo fatto fino adesso allora? RAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPARAPAR